Quali sono le novità per quanto riguarda l'avvertenza sull'industriale sud? Allora, le novità sono che rispetto a un monitoraggio costante che dovevamo fare della situazione aziendale, l'azienda non dà seguito alle richieste di incontro che noi facciamo, comunica alla RSU che ci sarà un calo gestito con le ferie, però noi non sappiamo fino a quando, quale sarà la linea di tenuta di questo rallentamento con le ferie e in uno scenario di spostamento di lavorazioni e di termine di alcuni progetti. Quindi per noi diventa essenziale riattivare il tavolo istituzionale. Noi subito dopo l'assemblea dei lavoratori del 23 di ottobre abbiamo richiesto la convocazione alla Regione Abruzzo. Quindi siamo in attesa di una convocazione. Quale sarà per noi il tema in quel tavolo? A noi serve un esame dell'intera strategia del gruppo IMR e secondo noi la Regione Abruzzo, oltre alle risposte immediate che devono uscire su quel tavolo, prospetticamente dovrebbe chiedere la convocazione al Ministero del Made in Italy del gruppo per capire quali sono le strategie complessive. Le prospettive sono innanzitutto, abbiamo fatto una richiesta come un tavolo regionale, perché vorremmo capire di tutto quello che ci siamo detti in Confindustria, se non mi sbaglio tra maggio e giugno, quanto si verificherà realmente, perché chiaramente è uscita fuori la commessa Lamborghini, dovevano rientrare commesse che dovevano essere parimenti con i livelli occupazionali, e così non è stato. I lavoratori vanno a lavorare e non lavorano neanche più di 4 ore, vengono rimandati a casa. Il venerdì è di chiusura delle linee di produzione, perché chiaramente non c'è nulla da fare. C'è una gassa integrazione per gli impiegati già aperta da mesi. Vogliamo capire la flessione che si doveva verificare nel 2025, che si è anticipata già negli ultimi mesi 2024, l'azienda è come ha intenzione di arrivare alla famosa commessa Mercedes, che si sarà nei primi mesi del 2026. Questo è un punto di domanda, dove anche la politica dovrà rispondere, ma in maniera concreta, e non ne stando ad aspettare e a vedere che cosa farà l'EMR. Questo è quello che vogliamo noi. Dopodiché ci muoveremo di conseguenza.